11 febbraio 2016, una data che si è guadagnata all'eternità. Un evento che parla italiano, ma soprattutto che parla a Cassinate. La scoperta ufficiale delle onde gravitazionali porta anche il nome di una scienziata che ha cresciuto a Cassino, specializzandosi poi a Pisa. Lei è Alessandra Buonanno, ovvero colei che ha fornito le formule necessarie per dar seguito alla teoria della relatività avanzata già da Einstein e far scoprire così le onde gravitazionali. In termini semplici queste onde sono delle increspature del tessuto spazio-tempo che avvolge l'universo prodotte dal movimento di corpi dotati di massa nello spazio-tempo. Più gli eventi sono colossali, più energia viene prodotta. Il nome di Alessandra Buonanno sarà quindi inserito nei libri di storia, anzi di fisica. Gli amministratori locali hanno già provveduto a congratularsi con la Buonanno, in primis il sindaco di Cassino e del vicepresidente della provincia di Frosinone, che si sono detti giustamente orgogliosi di lei.